Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Ace The Horror Game Allora, siamo sempre qui, sempre nello stesso gioco, perché so che vi piace, per me non vi è piaciuto abbastanza E sfortunatamente io ora non dovrei registrare, quindi il gameplay sarà veloce, tipo farò due partitine al massimo, oppure una fatta bene Quindi, io il gioco verrà registrato in una finestrella piccola, perché sapete com'è, sono povero, il mio computer regge fin dove vuol E il gioco lo conoscete bene, le regole non serve che ve le spiego Dunque, sono da solo ragazzi, di mattina, questo gameplay probabilmente verrà caricato subito dopo averlo essere stato registrato E basta, che altro dire? Che altro dire? Ecco, che altro dire? Insomma, ci sono cose importanti a dire Quindi, è stato riaperto il clan di Clash Royale di Alpha e Aleph, quindi veniteci pure a trovare L'entrata è gratis, assolutamente, cioè non sono necessari i trofei, veniteci pure a trovare Siamo tutti quanti attivi e viviamo felici, punto Alpha e Aleph, ricordate, Alpha e Aleph su Clash Royale Dunque, di qui non sono ancora andato mi sembra, no? Ok C'era un pulsante per saltare mi sembra, ma non ha importanza X? X esatto, con X si salta Ora, il mostro, il mostro brutto, abbastanza sicuramente verrà fuori da questa Da... verrà fuori... eccolo qui, sta arrivando Dov'è? Dove si trova? Quindi si trova al piano di sopra, penso stia scendendo le scale Quindi io entro nel camerino qua Esatto È passato qui davanti, penso Cazzo, che ansia mi metto in giochi horror Fa che non me lo ritrovi davanti, fa che non me lo ritrovi davanti Dai No, 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 no Perché Dio mi fai questo? Perché Dio mi fai questo? Dio mio Io, voi lo sapete, è vero che io I giochi horror A me i giochi horror danno molte problematiche Non posso uscire da qui Ah, vaffanculo, devo prima trovare altri 14 cazzo di sacchetti Porca troia Va bene, quindi Allora Ormai più o meno diciamo che sono abbastanza pratico in questa zona qui Qua ci sono sacchetti, sacchetti Qui c'è la safe room, perché qui non entreranno mai Apri la porta Ok E un solo sacchetto Bene, questa candela qui non la spengo perché ho paura che Possa avere le repercussioni Dov'è? È al piano di sotto È al piano di sotto Bene, via, subito su Via, via, via C'è quello Ah, pensavo potesse esserci un sacchetto Vabbè Cosa che poi mi sembra una finestra sbarrata Ah, no, una porta sbarrata, ok Allora Quindi, andiamo su per di qua Su per le scale Eccellente Dai che questa volta qui lo finisco il gioco Vai, vai Dodici 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 sacchetti Non ho soldato niente, è vero Fioi? No Quindi Io dico che Giusto per mettergliela in culo alla sicurezza Noi usciamo di qui No No No, 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 no No, 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 no Entra Entra qui dentro Entra qui dentro Entra qui dentro Porca troia Gli sono sfuggito con una roba assurda da dietro di me Ok Io in questo corridoio qui non mi so orientare Come potete vedere Porca di cavolo La prima volta questo fulmine qui ragazzi Mi aveva traumatizzato la vita Ho preso una paura Assurda Qui dentro, qui dentro Nelle stanze saremo al sicuro Ok Allora Quel disco lì Voi lo scordate che lo attivo Vai che siamo messi bene A suon di sacchetti Vai Altri qui dentro Che cosa che poi tra l'altro Hanno anche fatto bene Guardate Surrealistici Cioè con tanto del simbolo del riciclo Molto ben curato nei dettagli Ora Dov'è? È al piano di sopra Ma sta salendo Forse faccio il tempo a uscire E entrare nel bagno Ok Ok E Dunque mi dice Posso prendere qualcosa Cos'è questo? Abbiamo trovato una combinazione Ah Eh Per aprire il lucchetto giù mi sembra Questo qui è utile ragazzi Ora vedete perché Perché ci stampa un foglio con un occhio Aspettate 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 Bene Abbiamo due occhi Dov'è il mostro? Ok faccio il tempo ad andare in bagno se mi muovo Ok via 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 Cosa Oh mio dio Mi sono praticamente perso Ok meglio Cosa Non Non ho neanche capito Sono stato troppo veloce Non ho capito che mossa che ho fatto Eh Qui fuori Lui è qui fuori che gira Porco diavolo Non c'è niente Di giù Giù Il piano di sotto Nooo Ma dai Non Nooo Ma non ci credo Dannazione Aspettate che guardo Ora la musica smetterà di sentirsi Perché sto guardando come sono messi con i minuti di registrazione Come sono messi con i minuti di registrazione Dimmelo ti prego Dimmelo Scusate ragazzi Se è solo 5 minuti Ne faccio un altro E mi scuso per magari la poca professionalità di questi gameplay Dove vedete il programma di registrazione a fianco Però tuttavia O faccio così Altrimenti ci metto 3 ore tra dover usare Movie Maker Non tanto perché sono lento di editare Ma perché è Movie Maker che deve caricare Quindi ci mette ore Ci mette ore Movie Maker a caricare Guardate già due occhi Subito subito Freschi freschi Quindi Movie Maker è lentissimo a caricare Deve poi salvare i file ed è ancora più lento Poi dopo quando devo caricarlo su YouTube È molto più lento Cioè Si tratta di un passaggio che va da 10 minuti Che ci metterebbe senza edit A 50 minuti che ci mette con l'edit Perché più o meno Da quel capito Movie Maker rappresentisce il file Ok 4 sacchetti Cioè poi ragazzi Probabilmente pochi di voi Non anzi quasi tutti l'avrete capito Ma per quelli che l'hanno capito Questi qui sono dei sacchetti contenenti oro Sacchetti contenenti oro lasciati per strada Logico Ma che piano è? È il piano di sotto Ma non mi serva niente Perché ora io so che sta scendendo Dov'è ora? Perfetto Ora so che è al piano di sotto Bene È entrata al piano di sotto Quindi io faccio uno scatto Che faccio paura Ah non lo so che faccio paura agli uomini veloci E salgo subito al piano di sopra Sacchetto sacchetto mio Occhio Sacchetto Prendilo Corri Corri verme Corri verme Corri verme Corri bene bene Ah 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 Sono salvo Dunque Stampante Sacchetto Safe combination Che non ho mai letto cos'è la safe combination Uh guardate qua che si nascondeva un sacchetto Che magari ho saltato anche prima Ok Ora corriamo in bagno subito È eccellente Siamo a 10 11 Dov'è? È appena di sotto Appena sceso Benissimo Benissimo Vaffanculo odio quando mi Mi vede Ah Ok Bene Apriamo qui E non c'è un cazzo di niente Bene allora Vuoto 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 Qua di sicuro qualcosa c'è Uno solo Maledetti Ora io dico Faccio una run E mi butto Dentro la porta Per di qua Spero Penso che me lo ritroverò davanti Probabilmente Quindi Veloci Uh Ok 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 Dannazione L'ansia 13 Dov'è? Sta scendendo di nuovo Gli piace stare il piano di sotto Stavolta Quindi Ora noi prendiamo anche questi Uno Due Tre sacchetti Andiamo qui dentro Prendiamo l'occhio Fa che ce ne siano quattro Eh no Eh no Mi tocca andare al piano di sotto Mi sa Anzi aspetto qui Aspetto che vado al piano di È al piano di sopra Ragazzi è al piano di sopra Ed è qui No 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 Ok È andato via Subito via Veloci Veloci Per di qua dovrei avere le scale subito Subito giù Veloce verme Veloce verme Penso che sia qui Beh è qui È qui Via 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 Veloce Ci sta dietro il culo Ci sta dietro il culo Ci sta dietro il culo Vai 18 Daaa Ci ha preso Alla fine ci ha preso Ok Ok Gameplay dai ritmi pacati Ma sapete come è ora Non avrei dovuto registrare Infatti avrei dovuto studiare un po' di fisica Ma non ha importanza Quindi Il gameplay finisce qua E ci si vede al prossimo video Ciao a tutti ragazzi